Ultimo passo ieri sera di un iter iniziato più di cinque anni fa per l'area ex zuccherificio. La variante con destinazione commerciale e direzionale richiesta da Madonna Ponte è sviluppata dalla passata amministrazione di centrodestra e è arrivata la discussione del Consiglio Comunale che a maggioranza ha votato no. Hanno fatto eccezione i consiglieri d'opposizione Maria Antonio Cucuzza di Forza Italia, Stefano Guzzi della Tua Fano e Davide Del Vecchio dell'Udc. Fuori dal coro tra i banchi della maggioranza, il capogruppo della lista civica del sindaco Noi Città Riccardo Severi che per un atto di coerenza, come lui stesso l'ha definito, ha votato a favore. Credevo in questa variante come una possibilità offerta alla città di dare occupazione, di creare posti di lavoro, opportunità di crescita e quindi avere un'opportunità come quella poteva rappresentare per i tanti artigiani, per operai che in questo momento soffrono la crisi economica un'opportunità sicuramente da cogliere. Voglio ricordare le tante occasioni perse da Fantasy World, dalle Terme, dalla questione dell'aeroporto, ecco tante occasioni che ci hanno visto discutere sempre animatamente ma non arrivare mai a una sintesi. Ecco, la politica invece deve avere la capacità di fare sintesi e di trovare le giuste strade per dare risposte ai cittadini. Critici gli interventi dei consiglieri Cucuzza e Daguzzi che hanno ribadito come l'approvazione della variante rappresentasse l'ultimo treno per rilanciare l'area e lo stesso sviluppo della città. Su una delibera che ha avuto un iter molto lungo, complesso, condiviso con tutte le associazioni di categoria, il sindaco Seri nelle sue conclusioni cosa dice? Dice che questa giunta ha avuto il coraggio di non scegliere. Io invece penso che non scegliere è troppo facile e che il coraggio si dimostra prendendosi le proprie responsabilità. In sindesi, una giunta che ha presentato una proposta di delibera e che la sua stessa maggioranza l'ha dovuta bocciare. Credo che così siamo al paradosso e credo quindi che non essendoci più una maggioranza questa giunta si debba dimettere. Ma ecco invece quanto riporta il documento sottoscritto dai consiglieri con il quale l'intera maggioranza con l'unica eccezione ha motivato la bocciatura definitiva della variante. Il rischio facilmente prevedibile è quello di dar vita a un ulteriore polo commerciale e direzionale con un futuro molto precario e come tale del tutto inutile al rilancio complessivo dell'economia locale. Un'opportunità che si è persa di investimenti e di lavoro, questo invece è il pensiero di Gabriele Duranti, amministratore unico di Madonna Ponte e la società proprietaria dell'ex zuccherificio. Duranti sperava che l'amministrazione comunale si facesse un esame di coscienza prima della votazione. Mi sembra evidente la cosa che sia svantaggio della città, che sia fatta sulla pelle della città, questo mi sembra evidente. Noi avevamo degli investimenti da poter fare, possibili da fare. Io lavoro sui fatti, i fatti per me erano questi fino a ieri. L'amministrazione ha preso un'altra strada, ha preso un'altra decisione. Io non discuto, aspetto di sapere quale sia la proposta dell'amministrazione su questa cosa, perché io ancora non ho capito. Archiviata definitivamente la variante si è passati a parlare di Aset Spa e Aset Holding, bocciati dalla maggioranza i primi quattro emendamenti presentati dalla minoranza. La seduta consigliare di ieri sera come d'accordi è stata sospesa dal presidente Renato Claudio Minardi. I lavori sono ripresi questo pomeriggio alle ore 18 con la discussione sia dei restanti emendamenti sia sul futuro delle due aziende pubbliche.